Arrivava dalla Spagna e dai Paesi Bassi la droga che veniva acquistata e venduta attraverso l'organizzazione criminale che faceva capo a Vincenzo Starita. L'organizzazione è stata sgominata attraverso l'operazione condotta dalla squadra mobile della Questura di Salerno. All'alba di oggi, su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Salerno, sono in totale 11 gli arrestati, 7 in carcere, 3 ai domiciliari, ritenuti responsabili a vario titolo di far parte di un sodalizio criminale in grado di gestire il traffico di droga su un ampio territorio, principalmente Salerno, Scafati e nella zona vesuviana dell'Interland napoletano e tra l'altro in stretto rapporto con gruppi delinquenziali presenti nell'agronocerino sarnese ma anche con associazioni criminali attive a livello internazionale. Cocaina, crack, hashish e marihuana provenienti da Spagna e dai Paesi Bassi venivano acquistati da Starita, soggetto gravato da numerosi pregiudizi penali e di polizia proprio per traffico di sostanze stupefacenti. La droga veniva poi rivenduta grazie alla rete di rapporti intrattenuta con la criminalità locale e con organizzazioni criminali estere, riuscendo ad organizzare trasporti d'ingenti quantitativi di sostanza stupefacenti. La conferma è che nel corso delle indagini sono infatti state tratte in arresto due persone in flagranza di reato sorprese a trasportare uno droga occultata in un rimorchio, un altro invece è stato trovato in possesso di 11 chili di cocaina. Durante le indagini è stata acquisita una mole considerevole di elementi di prova nei confronti di tutti i soggetti destinatari delle ordinanze di custodia cautelare. Al momento risulta irreperibile ed è ricercato una sola persona destinatario di una misura cautelare in carcere.